E' con voi, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo La gente chi dice che io sia? Ed essi gli risposero Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. Ed Elia domandava loro Ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose Tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò ad insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli iscritti, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Gesù faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e gli disse Lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla, insieme ai suoi discepoli, disse loro Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi si stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Parola del Signore. Siano notati Gesù e Maria. Sempre siano notati. Per molte persone, fratelli e sorelle carissimi, l'esistenza e la bontà di Dio sarebbero incontrovertibilmente dimostrate, ci crediamo tutti, qualora cessasse lo scandalo della sofferenza del mondo, soprattutto il dolore innocente. Se non ci fosse la sofferenza, tutti penserebbero a Dio veramente buono e grande, perché ci ha liberato da ogni sofferenza. Quindi esiste. E siccome invece c'è, molti pensano a causa di questo, a o Dio non c'è, oppure non si capisce bene perché deve lasciarci a soffrire. A molti di voi sarà capitato di sentire dire da qualcuno a se Dio esistesse o se fosse buono non permetterebbe mai che i suoi figli abbiano a soffrire. O no? È successo mai? Non avete mai sentito cose di questo genere? Non ci avete mai pensato? Queste voci non sono mancate nemmeno nel mondo della cultura con la C maiuscola, della filosofia, che hanno dato eco, elegante e anche forbita a tale obiezione una sorta di gancio, di supporto per una decisa presa di posizione a favore dell'ateismo, solo per fare un nome eccellente per chi ha un po' di cultura, filosofo tedesco che ha fatto un sacco di guai, che si chiama Friedrich Nietzsche, per chi lo conosce. Ora, le cose stanno proprio così? La liturgia che abbiamo ascoltato in questa ventiquattresima domenica del Tempo Ordinario ci dice che le cose non stanno affatto così, anzi, tutt'altro. Basta solo essere attenti, come le letture di oggi ci aiutano a fare, a posizionare correttamente il problema dell'esistenza del male e della sofferenza e vedere come Dio e Gesù ha ampiamente risposto, con le parole e soprattutto con le opere. E ciò ci aiuterà a trovare corretta e adeguata risposta a questo dilemma che affligge il cuore dell'uomo. Perché il dolore? Da dove viene il male del mondo? Prima lettura che oggi abbiamo ascoltato. Il profeta Esaia mette in bocca a questa misteriosa figura del servo del Signore queste parole quanto mai eloquenti. Le cito che il foglietto le può vedere, le levo. Ho presentato il dorso ai flagellatori, le guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli spulci. Voi sapete quando il profeta Esaia è vissuto, siamo tra il IX e l'VIII secolo avanti Cristo, quindi 800 anni prima che Gesù venisse sulla terra. Domanda, a chi vi fa pensare ho presentato il dorso ai flagellatori? Le guance a quelli che mi strappavano la barba, la faccia agli insulti e agli spulci. Sorprendente, no? Chi abbia un minimo di conoscenza dei Vangeli sicuramente voi l'avete e delle vicende terrene legate alla passione, alla morte di Gesù, farà alcuna difficoltà a capire come questi dettagli, perché sono dettagli profetizzati secoli prima, ci siano ampiamente, sorprendentemente e puntualmente realizzati durante la dolorosa passione di Nostro Signore. Un innocente con la I maiuscola, che nessuno poteva dichiarare colpevole di alcun peccato, prende su di sé una mole spaventosa di violenza, di dolore e di disprezzo, dice il testo della prima lettura, senza restare confuso, senza scandalizzarsi di tutto questo dolore, anzi, abbracciandolo. Questa è la risposta, diciamo così, di fatto che Gesù ha dato al dolore. Questo medesimo Gesù lo troviamo nella pagina evangelica, che chiaramente ha bisogno di essere articolata, grazie a Dio ci sono tre omerie, perché ci vogliono quattro o cinque omerie per approfondire bene la pagina evangelica di oggi. Adesso ne vedremo qualche aspetto, no? Allora, innanzitutto viene riconosciuto e acclamato dall'Apostolo Pietro come il Messia, il Cristo. Saprete, no, che nell'immaginario collettivo, anche oggi, i guru, i Messia, il Messia è uno che viene a risolvere i problemi, è uno che ha in mano la soluzione, la chiave, se preferite oggi con un parlare comune, si dice la quadra, quindi quello che mi consente di svoltare, di trovare appunto la soluzione. Gesù quindi viene riconosciuto in questo senso come il Cristo, dice, oh, e non è che lui nega di esserlo, anzi, proprio dopo essere stato riconosciuto in questo modo, che cosa dice? Comincia ad insegnare apertamente, che il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli iscrivi, e venire ucciso, il Messia. Ma come tu sei venuto a portarci la soluzione dei problemi del mondo, e viene a parlarci di sofferenze, di croci, di morte. Poi rincara, questo tocca a me, ma questo dovete dirlo anche voi, che vuoi venire dietro a me e indieghi se stesso. E Pietro che fa? Però facciamoci una domanda. Voi che avreste fatto? Io che avrei fatto, sentendo queste parole? Ma sarà vero che è il Messia? Sì, forse sarà pure il Messia, però, Signore mio, per carità, questo non ti accadrà mai. Ed ecco che Pietro, dopo essere diventato il primo Papa, perché nell'angelo Guadaleno di Matteo, dopo queste parole, Gesù gli dice, tu sei Pietro, immediatamente dopo diventa il collaboratore, l'alleato inconsapevole di Satana. Prima di aver soltato Gesù a non prospettare questi orribili scenari, quindi... E Gesù cosa dice? Io non vengo a togliere la sofferenza dal mondo, ma anzitutto a prenderla su di me, me la prendo tutta io e vi insegnerò il modo di santificarla. Questo è quello che ha fatto Gesù. Step successivo. Come mai Gesù ha fatto così? Non poteva toglierla del tutto la sofferenza? Perché non l'ha tolta, ma l'ha presa su di sé? Si è fatto uccidere il dolore e ha insegnato noi a santificarci la sofferenza. Quindi non ce la toglie in questa vita. Nell'altra vita non ci sarà più la sofferenza, ma qui non ce la toglie. Perché? Rispondiamo a questa altra domanda e poi ci fermiamo. Una cosa deve essere chiara per tutti. Questo traspare dalla rivelazione in maniera assolutamente evidente. Per quanto sta in lui, Dio non vorrebbe in nessun modo, attenzione alle parole che uso, nessuna forma di sofferenza per l'uomo sulla terra. Voi questo ci credete? Nel Libro della Sapienza si legge Dio non ha creato la morte, non gode per la rovina dei viventi. pensate che sia una cosa ragionevole immaginare Dio che crea tutto quello di bello che vediamo e anche noi, per farci soffrire? Questa era la volontà di Dio. Quale gusto ci prova, nostro Signore, a vederci soffrire, se avesse fatto una cosa di questo genere? La sofferenza non viene da Dio. L'uomo non è stato da lui creato per soffrire, ma, audite audite, per godere, quando sarà finita la vita terrena, dove siamo ancora nella prova, sapete che succede in Paradiso? Si gode la visione beatifica, sarà un godimento ininterrotto, sempre nuovo, eterno e senza fine. Nessuno di noi lo può immaginare, perché se solo lo immaginaste, fareste come faccio io, se mi perdonate. Capite? In questi tempi, che sono tutti quanti terrorizzati, dalla morte che inconde, mandatela su di me, se ci avete paura, diteli che mi venisse a prendere subito, perché per quanto mi riguarda, prima arriva e meglio è. Non vi scandalizzate di questo qui, tra poco diremo il credo. Aspetto la risurrezione dei morti, credo nella vita eterna. Quando noi moriamo, la morte non è alla fine, la morte è alla fine delle sofferenze, e dell'inizio, per chi si è preparato, è vissuto come amico di Gesù, della beatitudine. Certo, se il nostro Signore vuole farci stare qui un'altra trentina, quarantina d'anni, perché vuole che lo serviamo, contribuiamo al bene, pure essere cento. Ma se volesse pure adesso, ma che problema c'è? Ma magari. D'accordo? Noi siamo stati creati per godere, non per soffrire. E da dove viene la sofferenza? Nella mente di Dio, quello che noi vediamo oggi, non è esattamente quello che sarebbe dovuto accadere. Cioè, non è che Dio dice, vabbè, facciamo così, creiamo l'uomo, muro facciamo un po' soffrire sulla terra, quindi deve pagare il tributo a triboli e pene durante la vita terrena. Poi però, per carità, lo portiamo in paradiso. Questo non è il piano originario del Signore, questo è quello che è successo in conseguenza di quello che abbiamo combinato noi. Perché per quanto sta nel Signore, questo ce lo dice il libro della Genesi, ce lo insegna la Chiesa, il suo Magistero, l'uomo era stato messo dopo la creazione nel paradiso terrestre, cioè un'anticipazione di quello futuro e avrebbe dovuto vivere una vita da paradiso terrestre per poi andare in un paradiso celeste. Questo è quello che Dio avrebbe voluto fare. E quindi da dove è venuto tutto questo? Dolore, malattia, violenza, sofferenza, lutto, pianto, morte, pandemie, da dove sono venute? Non certo da Dio, ma dall'uomo e dalla sua libera volontà. Siamo stati noi a creare il male e la creazione del male è un fenomeno che è avvenuto nella volontà dell'uomo attraverso il peccato e poi ha lanciato una bomba atomica che è esplosa generando tutte le forme, i tipi di male che conosciamo, compreso quello fisico, psichico, morale, spirituale, malattia, sofferenza, eccetera. Ci crediamo noi a queste cose? Guardate che la fede cattolica queste cose le insegna. Allora, perché Gesù è venuto a soffrire? Che cosa si è inventato? Perché ha sofferto Gesù? Se avete capito quello che ho detto, sicuramente sì, o se così non fosse perché mi sono spiegato male e chiedo perdono. Il male fisico, la sofferenza e la morte sono un male effetto, ma il male causa è il peccato. Allora, cosa ha fatto Gesù nell'opera della redenzione? Per distruggere il male causa, cioè il peccato, ha preso su di sé tutti i mali effetti, ha conosciuto il dolore in tutte le sue forme, fisico, psichico, morale e spirituale. Per ridare all'uomo, primo, l'amicizia perduta con Dio, secondo, la possibilità di accedere almeno al paradiso celeste, e terzo, la possibilità di santificare sulle sue orme, quindi accettandoli con pazienza e con amore, i mali che la vita presenta e che noi stessi, purtroppo, abbiamo posto in essere, abbiamo generato. non solo, nel Padre Nostro, e concludo con questo, il Signore ci ha insegnato ad invocare quel regno in cui la Divina Volontà sia fatta, attenzione, qui in terra, così come si fa in cielo, provate a pensare bene a questa espressione che diciamo tutti i giorni, speriamo nel Padre Nostro, Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. provate a immaginare come sarebbe il mondo se tutti facessero la volontà di Dio non soltanto alla maccheroni che alla Carlona, ma con una perfezione così grande da eguagliare a quello che fanno i santi e gli angeli in Paradiso. Vogliamo ricostruire il Paradiso terrestre sulla Terra? Facciamo così tranquilli che lo ricostruiamo dall'inizio alla fine. Non è follia immaginare che se questo accadesse se il peccato fosse completamente sbandito dal cuore dell'uomo veramente la Terra tornerebbe ad essere un giardino perché verrebbe a mancare la causa produttrice del male ed il luogo dell'anticamera dell'inferno e del purgatorio potrebbe tornare ad essere un'autentica anticamera del Paradiso. Quindi chi dinanzi alla presa di coscienza di tutto ciò continuasse ad accusare ahimè Dio della presenza del male nel mondo o peggio ancora di essere in qualche modo responsabile della dannazione di qualcuno cadrebbe in una bestemmia imperdonabile disconoscendo un amore così grande che il Signore ha avuto da compromettersi fino a questo punto con tutti i mali e i guai esistenti nel pianeta Terra prendendoli su di sé mali che sono come abbiamo visto imputabili e causanti solo da libero arbitrio umano per restituirci ogni gioia ogni bene e la possibilità di santificare la vita presente e di tornare felici a godere la gioia per la quale siamo stati creati nella vita beata che attende gli amici e i discepoli di Gesù Siamo notati Gesù e Maria sempre sempre che siano grazie a tutti grazie a tutti